ciao a tutti sono francesca di dressage for jumping oggi vorrei rispondere alla domanda di riccardo che mi chiede come si fa a mettere cavallo rotondo prima di pensare a come si fa mettere cavallo rotondo dobbiamo chiederci una cosa a che cosa serve la messa in mano quindi a che cosa serve avere cavallo rotondo o avere cavallo riunito avere cavallo riunito ci serve per poter girare facilmente quindi più il cavallo riunito porta peso sui posteriori più è facile per il cavallo girare cosa utilissima sia nel dressage ovviamente ma sia anche nel salto ostacoli perché più il cavallo riunito più possiamo gestire la lunghezza della falcata e le girate strette in modo facile quindi il motivo per cui riuniamo il cavallo è quello di consentirci la facilità di spostamento seconda questione quali cavalli possono essere riuniti un puledro non può lavorare riunito perché non ha ancora sviluppato la muscolatura necessaria per farlo la riunione può essere paragonata al lavoro sulle punte per una ballerina una ballerina prima di lavorare sulle punte deve fare anni e anni di pratica di ginnastica non sulle punte allo stesso modo un cavallo prima di poter essere riunito deve fare almeno due anni di lavoro di base per sviluppare la muscolatura della schiena corretta che gli serve per portare il peso del cavaliere e poi un altro più o meno un anno due anni di lavoro per imparare la riunione per avere la muscolatura necessaria per lavorare in modo riunito quindi io non posso prendere un cavallo qualsiasi che non è mai stato lavorato e dire ah benissimo devo mettere un rotondo perché sarebbe una forzatura quindi obbligherei il cavallo a fare una cosa che non riesce a fare terzo punto una volta che abbiamo capito perché ci serve la riunione e quando la dobbiamo chiedere dobbiamo sapere come fare a chiederlo a questo punto ci sono tutta una serie di tecniche che ovviamente non si possono spiegare in un video ma che consistono in un lavoro di preparazione che serve a modificare l'equilibrio del cavallo in modo che il cavallo porti più peso sulle anche la conseguenza di questa modifica dell'equilibrio è che la testa del cavallo va a mettersi nella posizione sulla verticale ma questa è una conseguenza di un lavoro che si fa sul resto del corpo del cavallo quindi avere un cavallo rotondo non significa prendere le redini e con forza obbligare il cavallo a mettersi in una certa posizione con la testa ma significa lavorare con l'aiuto di un istruttore il cavallo nel suo complesso Grazie mille Grazie mille Grazie mille